Il principe Harry è stato criticato da un esperto reale per aver voluto attenersi a una tradizione di battesimo dopo essersi dimesso da reale anziano. Gli esperti reali di US Weekly, Molly Malshine e Cristina Garibaldi hanno discusso della possibilità che la figlia del principe Harry e Meghan Markle, Lilibet, venga battezzata nel Regno Unito. Durante il loro spettacolo, la signora Garibaldi ha sostenuto che era una situazione strana per i reali. Ha osservato che il principe Harry ha deciso di non voler far parte della vita delle tradizioni reali quando si è dimesso da membro anziano della famiglia reale. La signora Malshine ha anche osservato che l'importanza di un battesimo è l'aspetto religioso, non il luogo. La signora Garibaldi ha dichiarato, il principe Harry non voleva far parte della famiglia reale. Ora volere un battesimo reale per mantenere una tradizione, è così difficile. Da un lato, il principe Harry fa parte della famiglia, vuoi che abbia quelle tradizioni, ma anche lui non voleva avere quelle tradizioni. Diventa una questione di dove sia questo equilibrio. La signora Garibaldi ha anche discusso se il principe William potesse impedire il battesimo. Punto punto. Ha detto, anche io non so se il principe William ha l'autorità per porre il veto, sento che la regina avrebbe la decisione definitiva, forse il principe William ha dato la sua opinione e ha detto che non credo sia necessario. Inoltre, se il principe Harry venisse e lo facesse, sarebbe ciò di cui tutti parlerebbero. Sento che il principe Harry e Meghan dovrebbero battezzare il bambino in California, se è quello che vogliono. Allora forse quest'anno vengono nel Regno Unito durante le vacanze e lo fanno in quel modo, la signora Malshine si è anche espressa contro la necessità di recarsi nel Regno Unito per una cerimonia religiosa che può essere celebrata ovunque. Ha detto, questo non è davvero il punto di un battesimo. Non dovrebbe essere davvero un grande viaggio e una cosa sgargiante, dovrebbe essere solo un servizio ordinario in chiesa. Ha anche detto, se ti interessa davvero battezzare il tuo bambino e l'aspetto religioso di esso, non si tratta di dove lo fai.